Come Università di Firenze abbiamo accettato con molto piacere questa collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Toscana per la loro formazione professionale perché riteniamo il giornalismo uno snodo fondamentale della vita democratica e sostanzialmente della società civile. Quello che abbiamo pensato di realizzare per questo primo anno di collaborazione è un doppio percorso. Da una parte ci saranno degli incontri in cui ragioneremo del campo giornalistico e di come si sta trasformando ma poi abbiamo anche pensato fosse opportuno avvalendosi della presenza di docenti con le competenze adeguate poter trattare anche i principali problemi, i principali temi che si pongono all'attenzione dell'opinione pubblica. Inizieremo per esempio a parlare con sociologi, politologi, economisti anche di come sta cambiando il mercato del lavoro ma anche per esempio le connessioni tra sistema giudiziario e sistema mediatico. Questa mediatizzazione della cronaca nera è un fenomeno che sta davanti a tutti quanti noi. E' opportuno approfondirlo con giuristi, con docenti di diritto penale che come sempre in questi incontri poi si confronteranno non soltanto con i partecipanti ma anche con dei giornalisti indicati dall'ordine che saranno un po' degli introduttori, dei facilitatori di questi incontri. Nella convinzione che il giornalismo diventi un mestiere sempre più difficile perché non si può soltanto trasportare il contenuto da una fonte al pubblico, ai riceventi, all'opinione pubblica ma sempre più il giornalista è chiamato a connettere questi vari punti e quindi deve avere una conoscenza d'insieme, una conoscenza olistica dei problemi che tratta. Speriamo di trovare l'interesse dei partecipanti e ovviamente speriamo poi con gli stessi partecipanti e con l'ordine dei giornalisti poter definire meglio i programmi per gli anni a venire.